Buonasera amici, ciao amici di TV Prato e del Borsi, eccoci qua. Si è aperto il sipario sulla nuova settimana del Borsi e adesso Ilaria ci dirà che cosa succederà questa settimana. Allora cominciamo, domani sera giovedì 14 febbraio venite a festeggiare San Valentino qua con noi, venite coppie, venite tutte qua. All'ora 21 e 15 gli allievi della scuola di musica verde di Prato presentano degli aspetti dell'amore e delitti musicali a corte, ensemble di musica antica diretto da Martino Noferi, gruppo madrigalistico Biagio Pesciolini diretto da Mia Fracassini. Insomma ci sembra che non ci sia concerto migliore per festeggiare San Valentino che degli aspetti dell'amore. Allora ma diciamo qualcosa di più riguardo a questi due docenti della scuola di musica verdi. Allora Mia Fracassini, mezzo soprano, ha studiato presso la scuola di musica di Fiesole diplomandosi quindi in canto lirico presso il conservatorio Martini di Bologna. Mentre il professor Martino, diplomato in flauto dolce con il massimo devoti e la lode al conservatorio Cherubini di Firenze, con David Bellugi, Martino Noferi si è poi dedicato allo studio del lobo e barocco alla civita scuola di musica di Milano sotto la guida di Paolo Grazi. Bene, amici, un 14 febbraio San Valentino all'insegna della musica dell'amore. E come diceva il grande William Shakespeare, canta ancora ed ammene in abbondanza affinché il mio appetito sia mali e muoia se la musica è nutrimento d'amore. Eh? Eh, ragazzi. Che meraviglia ragazzi. Daniele, a dire. E adesso dal grande William Shakespeare alla musica d'amore passiamo al grande Fyodor Dostoevsky che plana qui a terra, qui al Borsi, quando... Venerdì 15 e sabato 16 febbraio, ore 21 e 15, Mino Manni presenta il topo del sottosuolo da delitto e castigo di Fyodor Dostoevsky. Ok, Mino Manni, Mino Manni, altro grandissimo interprete di questa stagione. Mino Manni è un attore della generazione un po' prima della mia. Io l'ho conosciuto un po' di tempo fa e ci siamo conosciuti lavorando insieme nella compagnia di Glauco Mauri e Roberto Sturno. Facevamo il bugiardo di Carlo Goldoni. Lui è sempre stato un gran figo, lasciatemelo dire. È un uomo bellissimo, un uomo che ha sempre avuto un grande successo con le donne. Però a parte questo, ma veramente è un bel tipo. È lombardo di nascita e da qualche anno sta mietendo successi un po' in tutta Italia con queste sue operazioni da, non so, dai grandi classici. Ha fondato insieme al regista Alberto Oliva, che è il regista dello spettacolo, del monologo, che porteranno qui al borsi, ha fondato l'associazione I Demoni. Topo del sottosuolo, raccontaci un po' Ilaria di cosa parla. Allora, Svidrigailov è un personaggio straordinario a cui Dostoevsky dedica molte pagine nella seconda parte di Delitto e Castigo. In calito giocatore che scommette su se stesso per tutta la vita, giocando ai limiti del consentito una partita senza esclusioni di colpi col destino. Si innamora della candida sorella di Raskolnikov e incrocia il destino del personaggio anche perché origlia una scomoda confessione che gli fa a Sonia. Hai capito, hai capito. Tra l'altro il pubblico verrà coinvolto in maniera diretta in questo monologo. Non vi dico altro, lo vedrete e lo vedrà chi verrà a vederlo. Tra l'altro vorrei leggervi questa citazione dal Delitto e Castigo. Dice Dostoevsky, qui sta il punto. Sono un brutto o sono io stesso una vittima? La ragione è schiava della passione. Io forse ho rovinato più di ogni altro me stesso. E purtroppo è una cosa che il rapporto con noi stessi è quello che determina poi il successo o meno delle cose della nostra vita. Dostoevsky come nessun altro è riuscito ad approfondire e a scavare dentro l'animo umano e dentro i difetti dell'animo umano. Un grande appuntamento al Borsi con Fiodor Dostoevsky. Cosa dice la critica di questo spettacolo? La critica è Magda Poli, signora critica del Corriere della Sera. Dice Mino Manni ben si cala in questo personaggio complesso. La regia di Olivia è pulita, gioca bene con lo spazio, disegna lo sfondo cupo claustrofobico di delitti e miserie. Non è Olivia la moglie di braccio di ferro, è il regista. E Alberto Oliva, lo facciamo per strammatizzare un po'. Mino Manni è uno che, vi dico solo qualche nome perché sennò sarebbe da stare qua mezz'ora. Cioè è uno che si diploma alla bottega di Gasman qui a Firenze e poi lavora con Castrico, Belli, Lievi, Calenda, Jerome Savary, Grauco Mauri, Erliska, Piera degli Esposti, Mariano Rigillo, Preziosi, Kim Rossi-Stewart, Gabriele Ferzetti, Franco Branciaroli, Silvio Orlando, Michele Placido, Paola Pitagora. In cinema è un ragazzo che ha fatto anche tanto cinema. Dario Argento, Dalatri, Bellocchio, Michele Placido, Max Fonsiduo, Franco Battiato, Fabio Volo, Ettore Pissom. Insomma, vi devo dire poi in televisione con Ramondo Vianello, Enzo Iacchetti, Giori Scotti, Maria Amelia Monti, Max Tortona, Enrico Bertolino, Luca Bizzarri e chi più ne ha più ne metta. Mino Manni, un nome, una garanzia. No, lo posso assicurare. È un bravissimo attore che ci fa il regalo di venire qui al Borsi con il suo topo del sottosuolo da Dostoievski. Che dire questa settimana? Più di così, semore, come si suol dire a Roma. Ragazzi miei, ciao, mi raccomando, venite al Borsi, venite al Borsi, venite al Borsi, perché il Borsi senza di voi non è niente. Ciao, ciao, ciao. Ciao, ciao. Ciao, ciao.